Il Movimento 5 Stelle all'indomani del Via Libera ha dato dal Consiglio Comunale di Pescara la ratifica della variazione di bilancio che consentirà al Comune di accedere al finanziamento della Banca Europea di Investimenti per realizzare un impianto per la produzione di biogas da rifiuti organici nel Comune di Città Sant'Angelo e del rinvio al mettente del progetto da parte dell'Assemblea dei Soci di Ambiente S.P.A. chiede le dimissioni dell'assessore comunale alle politiche ambientali e gestione dei rifiuti Isabella Del Trecco. Il capogruppo pentastellato Erika Alessandrini, consiglieri Paolo Sola e Massimo Di Renzo affermano che l'abbattimento dei costi è stato raccontato in maniera fuorviante perché le tariffe sono bloccate e saranno i pescaresi a dover restituire con gli interessi il finanziamento. Ieri mattina in aula si continuava a difendere a spada tratta questo mutuo contratto con la BEI che servirebbe teoricamente a realizzare un impianto da 30 milioni di euro il cui progetto però ieri pomeriggio è stato rispedito al mittente dall'Assemblea dei Soci di Ambiente dove fortunatamente la maggioranza dei sindaci ha raccolto le denunce che il Movimento 5 Stelle nei giorni scorsi aveva sollevato su tutte le criticità di un progetto e di una proposta che avrebbe fatto solo ed esclusivamente gli interessi del privato. Quindi ora sia la governance di ambiente che l'assessore del Trecco dovrebbero spiegare alla cittadinanza perché un progetto che poteva essere realizzato gratis per i cittadini o che potrebbe con gli incentivi statali essere gestito in maniera assolutamente pubblica deve per forza di cosa coinvolgere un privato a delle condizioni che in realtà per il pubblico sono inaccettabili. Pronta alla replica del sindaco Carlo Masci 5 Stelle hanno come al solito solo un interesse non far fare nulla da nessuna parte per questo poi in tante occasioni ci ritroviamo in difficoltà in Italia noi vogliamo realizzare un biodigestore assolutamente sostenibile in termini di ambiente che ci permetterà di risparmiare il 30% del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani e oggi noi paghiamo cifre esageratissime perché andiamo a smaltire ad Avezzano invece se avessimo un impianto qui come quello che vogliamo realizzare con i fondi Bay che hanno un project financing risparmieremmo il 30% una cifra notevolissima che ovviamente andrebbe a vantaggio dei cittadini di Pescara e non soltanto di Pescara perché poi questo biodigestore servirebbe a tutta la provincia di Pescara e forse anche a tutto l'Abruzzo